Allora, buonasera, sono Saeed, direttore del ristorante Mario Stevigno. Stasera vorrei spiegarvi un metodo classico per avvenare il bicchiere, così rende molto più il sapore, l'odore e cambia totalmente il gusto del vino. Per prima cosa apriamo la bottiglia, stappiamo il tappo, vediamo se il vino sarà di tappo o se c'è qualcosa che non va, in questo caso abbiamo il vino ottimo e poi facciamo in modo che sia un po' elegantino e allora mettiamo il tappo attaccato alla bottiglia. Dopo questo cominciamo ad avvenare il bicchiere. Avvenare il bicchiere è un modo molto semplice, però non tutti lo sanno fare, perché è un modo molto classico, diciamo. In questo caso giro il bicchiere su un tovagliolo di stoffa e lo avvino. Una volta girato il vino su un bicchiere, va attraversato su un altro bicchiere e così via fino all'ultimo. Perché facciamo questo? Allora, ci sono due motivi ben precisi. Il primo, una volta lavato il bicchiere nella lavastoviglia, cosa succede? Succede che ci sono tante sostanze chimiche e in questo caso qua c'è il problema che rimane la sostanza chimica dentro il bicchiere. Ecco perché ogni volta che andiamo a assaggiare il vino abbiamo dal 70 al 75% del vino, mai il 100% ed è un peccato. In questo caso qua abbiamo il 100% del vino. Perché? Perché lo beviamo e lo respiriamo, per cui diventa molto diverso. Secondo motivo. Una volta che ho sporcato il bicchiere, tra virgolette, cosa succede? Succede che l'ossigeno riesce ad entrare molto più facilmente dentro il bicchiere e in due o tre minuti è stata distrutta quella barriera chimica e comincia ad respirarsi molto meglio. Allora cosa succede in questo caso? Succede che abbiamo un vino perfetto. Tante volte, senza avvenire il bicchiere, succede che vai a finire la bottiglia e purtroppo il vino non è stato ancora aperto e allora vai a perdere ed è un peccato. Dopo tutto questo, vediamo un attimo al cliente se vi piace il vino o se non vi piace il vino e poi lo serviamo in maniera molto gentile sul tavolo. È così che si apre il vino rosso in Italia.